Ciao a tutti, benvenuti a questa serie che si chiama, è intitolata Misteri irrisolti. E' il mistero di oggi che vogliamo studiare è come sentire meglio la voce di Dio. Siamo Susanna e Consuelo, vi parliamo dalla Resurrection Life Church in Svizzera. E vogliamo vedere come possiamo risolvere il mistero oggi. Allora, andiamo di nuovo alla Bibbia. Guardiamo cosa dice la Bibbia oggi. E il numero uno, la prima cosa da fare, il modo per cui puoi sentire la voce di Dio in modo migliore è che tu legga la Bibbia. Se non leggi la Bibbia sarà sempre molto difficile per te sentire la voce di Dio. La Bibbia è Dio che parla a te. E' il numero uno, è la cosa principale che Dio parlerà con te. Ogni volta che tu apri la Bibbia Dio ti parla direttamente. E ricordatelo. La seconda, e hai già dominato, è tramite la preghiera. Quando preghi, puoi sentire la voce di Dio. E' certo che in questo studio di misteri irrisolti parliamo sempre della voce di Dio. E parliamo di pregare nel Spirito Santo. E c'è una cosa che devi capire, Dio è uno Spirito. E tu sei un essere di Spirito. E Dio parla da Spirito a Spirito. Il tuo Spirito è il tuo uomo interiore. E' il tuo io vero. Poi il tuo essere, il tuo uomo vive nel tuo corpo. E' come una veste terrena. E' come se i tuoi vestiti fossero il corpo che vesti per il tuo Spirito. E poi hai la tua anima. Le tue emozioni, il tuo volere e la tua testa. E le persone sempre cercano di vedere che Dio parla al di fuori. Se una macchina gialla passa, allora vedo che devo prendere questo lavoro. No, no, no. Non è così che Dio parla. Dio parla attraverso la Sua parola. E parla da Spirito a Spirito. Il più preghi nello Spirito Santo, il più leggi la parola di Dio, più chiara sarà la voce di Dio. E quando preghi nello Spirito Santo nella tua lingua celeste, come Dio ti parlerà, ritorna a parlare. E improvvisamente ti verrà una scrittura in mente. Oppure pregando in altre lingue. Improvvisamente una parola o una frase ti giunge alla mente. O preghi nello Spirito Santo. E improvvisamente una verità ti arriva che tu non potevi sapere. È come se sai qualcosa. E sei sicuro di questa cosa. Oppure ascolti altre persone che stanno parlando. E improvvisamente senti qualcuno dire qualcosa e sai che questa è la tua risposta. Se ti viene una parola nella tua testa che contraddice la scrittura, quello non è lo Spirito Santo. Qualunque cosa ti giunga. Se è una parola, una scrittura o qualunque cosa o qualcun altro che ti parla dovrà sempre essere d'accordo con la parola di Dio. Perciò è così importante che tu legga la parola di Dio. Ma le persone che sentono la parola di Dio proprio precisamente sono le persone che leggono la parola e sono le persone che pregano tanto nella lingua celeste. Allora, vi incoraggiamo. Se volete sentire la voce di Dio molto chiaramente, leggi la parola di Dio. Prega molto nello Spirito Santo. e come dice la scrittura nella prima lettera ai Corinti 14,2 chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio. le persone non capiscono parli dei misteri ma Dio capisce leggi la tua parola prega molto nello Spirito Santo e vedrai che sentirai la voce di Dio sempre meglio. Io ti benedica.